Parliamo di Bitcoin, BTC e Ethereum volano. Terza analisi, week 31. Ciao Alberto, buon sabato. Ciao, buon sabato. Ciao Ivan, ciao a te che sei a casa e che ci segui. Benvenuto e benvenuta. Benissimo, benissimo. Sta accadendo quello che aspettavamo da tre anni. Quindi andiamo a vedere oggi assieme, facciamo due ragionamenti assieme su cosa ha fatto Ethereum e cosa ha fatto Bitcoin e dove arriveranno? Questa è la grande domanda che tutti si fanno, noi ci facciamo. Andiamo a scoprirlo assieme. Rimani con noi. Jingle! Sigla! Take your knowledge to another level. Stavo sentendo proprio in questi giorni, mi collego con questo webinar gratuito che abbiamo preparato, stavo seguendo in questi giorni che cosa sta accadendo un po' al dollaro, no? Alcuni dicono che il dollaro è legato a quello che sta un po' succedendo a gold, bitcoin e tanti altri. Noi lo affrontiamo nella nostra video-lezione gratuita che abbiamo preparato qua sotto. Che cosa accade con questo continuo stampaggio di danaro, eccetera, eccetera. Qui sotto abbiamo preparato una lezione gratuita, completamente gratuita, dove affrontiamo questi argomenti e ti svegliamo i tre segreti che devi conoscere sul bitcoin, sulla blockchain, per cercare di proteggere il più possibile il tuo danaro. Quindi la moneta fiat che tutti siamo abituati. Dura 43 minuti, lo trovi qua sotto, gratuito, guardatelo, che sicuramente è interessante. Verò, Albi? Assolutamente. Sì, sì, qualcosa che devi assolutamente sapere e conoscere per proteggere il tuo patrimonio, quello della tua famiglia e il tuo futuro. Quindi clicca e segui tutto. Ok, passiamo nel vivo della diretta. Andiamo a vedere il nostro amico bitcoin. Tanti ragazzi ci hanno detto, ma voi dite sempre che non sono consigli finanziari, no? No, non sono consigli finanziari. Perché se qualcuno ci avesse ascoltato qualche giorno fa, quando parlavamo di Litecoin, Ripple, EOS, i grandi, come li abbiamo chiamati Alberto, Gli sleeping giant, i giganti addormentati. Se qualcuno ci ascoltava, avrebbe fatto, se prende quel tipo di decisioni e fa quel tipo di operazioni, avrebbe fatto sicuramente degli ottimi trade. Ma non è la nostra intenzione. E noi non siamo consulenti finanziari e non possiamo dare dei consigli. Simplicemente condividiamo le nostre idee e quello che noi vediamo e pensiamo. Quindi ricordatelo, questi video non sono un consiglio finanziario. Sei sempre tu, alla fine che prendi la decisione di acquistare e vendere qualsiasi tipo di asset deciderai. Eccolo, guardalo lì che bello. Visione dall'alto come in Take your knowledge to another level. Guardiamo dallo spazio il pianeta Bitcoin. Trend, dimmelo tu, in crescita. Di lungo periodo ovviamente. Poi nei brevi periodi, come vedi ad esempio qua, ci sono le correzioni o le correzioni più grandi di ciclo. Ricordiamolo, un ciclo del Bitcoin mediamente dura circa 4 anni, cioè da halving ad halving. Come puoi vedere qua, un ciclo comprende una fase dopo l'halving di forte bull run, una fase lunga di un anno, due anni di correzione, e poi una fase di accumulo fino ad arrivare al successivo halving per poi ricominciare la bull run. Questo è accaduto ben due volte e a quanto pare sembra, sembra, nel futuro non c'è mai certezza, non possiamo dire nulla che sia certo, che si ripeterà, però con grossa probabilità, da quello che vediamo, da quello che analizziamo, si può ripetere, e in effetti si sta ripetendo, perché fase di bull run fortissima dopo l'halving precedente, 2016, tocca il picco dicembre 2017, un anno e mezzo di storno, poi c'è stato un inizio di bull run, ma in realtà non era quello vero, definitivo come lo chiamiamo noi, un'altra correzione, un evento particolare mai accaduto nella storia precedente, che si chiama, si usa dire black swan event, cioè l'evento del cigno nero, capita una volta, ogni cavata di papa, è in maniera totalmente non prevedibile, ecco ad esempio a marzo, l'effetto covid-19, e da lì, a quanto pare, si è andati verso l'halving, che c'è stato a maggio, e dall'halving di maggio, comunque il bitcoin si sta comportando, come si deve comportare, cioè è entrato in una fase decisamente bull, quindi bull run, premesso che le conferme definitive, e qui lo vediamo, questa è una cosa importante da vedere, le si hanno al superamento del precedente all time high, cioè massimo di presto precedente, e qui lo vediamo, questo è interessante da capire, da valutare questa cosa, nel ciclo precedente, l'all time high è stato 1100 circa, mannaggia, solo a pensarci Alberto, 1100 all time high, l'avevo comprati, è stato proprio quando li ho comprati, per la prima volta bitcoin, però non ero preparato, non sapevo quasi nulla, se non essere affascinato, dalla filosofia che c'era dietro, e di fatti poi l'ho presa nei denti, perché? Perché non ero preparato, ecco perché devi assolutamente prepararti, quindi ulteriore consiglio, clicca sul link qua sotto, e segui la video lezione gratuita, perché ti aiuterà a prepararti come siamo preparati noi. Poi, quindi l'all time high del ciclo precedente, 1100, ci ha messo, allora qui 25 novembre, il bitcoin per superare quell'all time high, tre anni? Eh sì, sì sì, tre anni, perché? L'abbiamo detto prima, un anno e mezzo di fase di storno, quasi quattro Alberto, mezzo anno, quasi un anno, quasi un anno di accumulo, e l'accumulo, allora, in questo momento noi siamo in fase di accumulo, finché non si arriva all'all time high precedente, è vero, è iniziato il burn run, ma siamo in fase di accumulo, il burn run definitivo, proprio super definitivo, quindi ulteriore conferma, super definitivo, sempre più su, lo si ha al superamento dell'ultima high, dove dopo diventa terra di nessuno, sciogli le trecce ai cavalli, e lasciali correre, quindi, e questo accadrà in questo ciclo, quando si supereranno i famosi 20.000 dollari, 19.000 rotti, che è stato l'ultima high precedente, e stiamo andando in quella direzione. Che sarà la storia? Che sarà? Per solo negli ultimi 6-7 mesi l'anno, no? Bravissimo, bravissimo. Addirittura io mi aspetto che lo possa superare, come è accaduto qua, intorno a gennaio, febbraio, addirittura marzo, quindi del prossimo anno. 2021, prossimo anno. se fino a marzo del 2021 siamo ancora sotto l'ultima high, quindi 20.000 dollari, io sono perfettamente in linea con quello che possono essere le previsioni. se lo supera prima, se lo supera prima, tanto meglio, vuol dire che questo ciclo sarà ancora più potente del precedente, come molti, e da un certo punto di vista, anche noi ci aspettiamo, perché c'è un insieme di condizioni che mai si era verificato prima. Ricordiamole velocemente. Uno, esperienza di tutta la community, pulizia fatta per quello che riguardava schifezze, ICO finte, aziende che si finanziavano grazie alla blockchain, ma in realtà o erano frodi o progetti che non sono mai partiti. Ci possono essere ancora, anche le scam sono sempre in agguato, lo diciamo sempre, però si è fatta grandissima pulizia. L'affidabilità della blockchain bitcoin è pazzesca, pazzesca. Siamo a un massimo, un ulteriore massimo storico dell'hash rate. L'hash rate indica la potenza di calcolo dei miner, quindi di chi mantiene in piedi tutto quanto, valida le transazioni, e viene ricompensato per questo attraverso l'algoritmo proof of work. quindi da un punto di vista dei fondamentali mai come prima, cioè governi come ad esempio regolatori, legislatori negli Stati Uniti hanno autorizzato le banche a far fare custodia per i loro clienti di bitcoin e criptovalute alle banche. Visa e Mastercard entrano nel mondo bitcoin e criptovalute, Paypal anche, mai capitata prima questa cosa, si va verso una possibile adozione di massa. e aggiungiamo l'effetto valanga come l'hai accennato prima, il dollaro. Il dollaro, non solo il dollaro, l'euro, cioè le banche centrali, stampano moneta come mai prima d'ora, quindi stanno andando a creare una valanga di denaro che vale e varrà sempre di meno sul mercato, e questo denaro pian pianino abbiamo visto, abbiamo iniziato a vedere già da queste settimane, questo denaro sta iniziando ad andare su gli asset non svalutabili come l'oro e anche il bitcoin, perché il bitcoin sta iniziando in queste settimane a staccarsi da quello che è sempre stato il suo allineamento con la borsa americana per allinearsi, ha iniziato a comportarsi nelle ultime due settimane come l'oro, cioè come quello che è il suo alter ego fisico, cioè l'oro è il bitcoin digitale, scusami, l'oro è il bitcoin fisico, e il bitcoin è l'oro digitale, per tanti aspetti fondamentali. Beni che sono scarsi, proprio al contrario di quello che è l'euro, dollaro e tutte le altre monete che continuano a stampare, che aumentano, questi sappiamo che hanno, sono sempre più scarsi, e quindi ovviamente il prezzo sale, domanda e offerta, c'è niente da fare Alberto, se continua così US dollaro, quanto tempo è che non c'era questa differenza 1,17, 1,18 fra euro e US dollaro? Proprio stasettimana è proprio crollato il dollaro. Tanto, tanto, facciamo vederlo al volo qua. Tanto tempo. Dai roba. Oh, guarda dove è arrivato. Guarda dove è arrivato. Tac. È arrivato a 1,19, quasi 1,20. Dobbiamo tornare indietro all'anno scorso. Sì, sì, sì. E di fatto poi c'è questa, una trend line di lungo periodo, l'ha proprio toccata, guarda caso. Anche perché ho fatto, ho seguito dell'operazione euro-dollar proprio in questi giorni. Ottimo. Sì, ci sta, attenzione, non è che l'euro non si svaluti, hanno stampato un pochettino meno. Meno. Tanto meno che non il dollaro. Quindi il dollaro in proporzione vale molto meno dell'euro. Ma le situazioni in termini di azioni che stanno compiendo le banche centrali sono le stesse. Che sia euro, che sia dollaro, che sia sterlina, che sia yen, nulla cambia nel mondo. Nulla cambia. e personaggi importanti, grandi esperti di finanza, di investimenti, tutti stanno dicendo iniziate a andare verso l'oro, ma iniziate ad andare anche verso il bitcoin, perché è molto più fungibile dell'oro. Ok, torniamo a bomba sul nostro amico bitcoin. Oltre a guardare il grafico... Sì, esatto. Oltre a guardare... Scusa, Ivan, ti sto tagliando quasi, non ti lascio dire nulla, perché, diciamolo, ho mio figlio che sta dormendo e mentre dorme stiamo girando questa puntata per cercare di ottimizzare tutto. Come ogni sabato. Come ogni sabato. Puntuali e precisi noi arriviamo sempre. Esatto, esatto. C'è chi direbbe like an atomic clock, il nostro caro amico. Ok. Ecco, non lo guardiamo mai, oggi guardiamo anche il grafico mensile, perché si è appena chiusa ieri, oggi è il primo d'agosto, quindi auguri a tutti, buon primo d'agosto. Che bella candela. Si è chiusa la candela nel mese di luglio. Guarda che bomba incredibile. Appoggiata, o meglio, partita, quasi partita da questo supporto mensile dei 9100-9200, e si è stesa come un albero dalle grandi fronde verso, in direzione, della prossima resistenza di 13900. E l'apertura di oggi assolutamente positiva. Questo è il mese che si è aperto oggi, candela già, bella candela verde. Ti faccio una domandona. Yes. E se ripete questa candela, la seconda, se tu vai al mese di giugno, c'è una candela molto simile a livello proprio di ampiezza, lo vedi? Quella di aprile 2019, torna indietro. Una candelina la vedi? E se ripete la candela, quella di cos'è, aprile, maggio? Questa, questa è una bomba. Allora, se la ripete, qui abbiamo, vediamo quant'è stesa questa candela. Prendiamo solo il body, solo il corpo. Vedo bloccata l'immagine, ah no, adesso si è sbloccata. Vediamo cosa farebbe questa, dove ci porterebbe questa candela qua? Ci porterebbe non all'alltime I, ma però come chiusura mensile sì, come chiusura mensile sì, perché la precedente chiusura è stata a 13.000, a 14.000, e chiudere sopra i 14.000 è super, super bullish. Parlo di breve periodo, nonostante guardiamo un grafico come Xile, parlo di breve periodo come atteggiamento. E un'altra cosa, Alberto, se ti interrompo io stavolta, è tanto tempo che il bitcoin non arriva a questo livello e rimanere a questo livello. Guarda, se torni indietro nel tempo, lo abbiamo visto nel mese di, vabbè, of course, nel inizio, fine 2017, 2018, 2019, scusa, 2018, 2019. torno sul settimanale, intanto. Qua non si vede. Quanto tempo è? Quante settimane ha tradato sopra questa cifra? Ah, storicamente? Storicamente. sopra? Sopra che cifra? Sopra i 10.000? Dove siamo adesso? 11.700. Sopra questa cifra? Storicamente è capitato 1, 2, 3 settimane, qui parliamo di settimane, 3 settimane nel 2019, più 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 settimane tra 2017 e 2018, quindi 7, 8, 9, per 10 settimane storicamente il bitcoin è stato sopra questa cifra. Stavo parlando di poche settimane, quindi siamo ad un livello importantissimo, siamo ad un livello alto e con grandi possibilità che questo acceleri velocemente, quindi siamo sempre attenti a tutto, lì abbiamo una weekly. Sì, e poi come abbiamo sempre detto allo sfondamento di questa trend line discendente e ormai c'è stata proprio una chiusura settimanale al di sopra, quindi grande conferma, oggi è sabato, domani sera si ha la chiusura della seconda settimana, a meno che non ci sia un crollo improvviso, questa chiusura qui è una conferma definitiva praticamente di aver sfondato la trend line, quindi di aver rotto e di iniziare la strada verso l'alto. Detto questo, personalmente io mi aspetto che possa arrivare nel giro di poche settimane ai 14 barra 20 mila, no, io personalmente non me lo aspetto, io mi aspetto che ci possa arrivare verso fine anno barra inizio dell'anno prossimo, come abbiamo detto. mi auguro di sbagliarmi, mi auguro di sbagliarmi, quello che mi aspetto è la possibilità di arrivare qui ai 14 mila, 13,9, e stornare leggermente per, per diciamo riprendersi da questa corsa. Questo è quello che mi aspetto, nelle prossime settimane, poi può accadere di tutto. Cioè mi aspetto un 14 mila, un avvicinamento ai 14 mila, e una fase di alleggerimento che magari rimane sideways, come è accaduto precedentemente, o con uno storno potenziale anche fino ai 10 mila. Mi aspetto che possa ricorreggere fino ai 10 mila. Perché 14 farebbe un double top? Farebbe un double top, però sì, in realtà non è un vero double top, perché comunque qui abbiamo un bel double bottom, cioè una serie di double bottom, qui con addirittura una bear trap, cioè sono più le condizioni, anche se mi fa un double top, che potenzialmente è visto come bearish, però sta rottura, la rottura di questi livelli qui, double top o non double top, sono più forti verso i bull. Ok, ok. In questo momento specifico, dopo lo storno, entrati nel Burran, Ash Raid, Ribbon, tutti i segnali danno, danno verso questa direzione, quindi potrebbe andare a ritoccare, stornare un po', e poi lì accelerare, andare verso gli all time high. Sì, sì, assolutamente. Bello comunque, vederlo così il grafico, dopo la bella addormentata della blockchain per mesi, è divertente. Poi, diciamo una cosa, quindi dove può arrivare il Bitcoin? Allora, in questo macro ciclo, secondo noi, e non solo secondo noi, ci affidiamo a quello che è un modello statistico-matematico di Plan B, si chiama Stock to Flow, poi faremo magari un video specifico dove lo spieghiamo nei dettagli. Ne abbiamo già accennato, abbiamo già detto anche in puntate precedenti, per la fine di questo ciclo rialzista, che si prevede possa essere fine del prossimo anno, metà dell'anno successivo, quindi dicembre 2021, fino a metà anno del 2022, si prevede il Bitcoin fino a 288 mila dollari, secondo una serie di analisi, di studi. Quindi, si prevede che possa arrivare fino a qua circa. Ricordiamolo, oggi è a, quant'è abbiamo detto? 11.000 e... 11.710, 11.715. 288 vuol dire circa un 20 per rispetto a quello che è oggi il suo prezzo. E questo è quello che ci aspettiamo per il Bitcoin. Potrà fare meglio? Può essere. Potrà fare peggio? Può essere. Tutto può capitare. Andiamo a vedere Ethereum, perché abbiamo parlato anche di Ethereum. Allora, Ethereum intanto... Ok, non lo ripetiamo, adesso valutiamo solo l'aspetto grafico e tecnico. Il 4 agosto, quindi tra pochi giorni, parte il test di Ethereum 2.0, quindi col cambio di algoritmo, il passaggio a proof of stake, con tutto quello che comporterà. Tre mesi di test. Contiamo che vada bene e qui aprirà la strada a qualcosa di spaventoso in senso positivo spettacolare di Ethereum. Ok, vediamo... Infatti, Ethereum guarda qualche roba che ha fatto. Solitamente outperforma, in termini di risultati, quello che sta facendo il Bitcoin. Infatti, il pump che c'è stato negli ultimi settimane è stato potentissimo. Allora, io qui ho tracciato una linea molto interessante, te la voglio far vedere, di lungo periodo. In questo momento il prezzo è proprio su questa linea, su questa resistenza. Questa è una linea che ne prende... Devo aprire un po'. Ethereum... Ok, parte da qua. Adesso l'ho tracciata sul grafico mensile. Quindi è una resistenza mensile. Se è tutto un po' blocchiato... No, dai. Sì. Si è bloccato. Ho aperto troppo. Comunque, 360. Dov'è il prezzo adesso? Vediamo cosa accadrà. La sfonda? Se la sfonda, i livelli successivi sono qua. Cioè, il primo mi sembra che sia sui 500. Qua diventa un livello interessante. Sì, 500. E... Ci metterebbe un attimo ad arrivare a 500. Una volta sfondata questo. Io pensavo che si fermasse o rallentasse un po' a 350. Nella mia testa avevo questo round, questo numero rotondo 350. Dico, ok, ha corso parecchio perché se andiamo indietro di qualche settimana, stiamo parlando di attiremo a 240, stiamo a 350. Dico, magari invece no. C'è proprio una sforza quanto è Albi. Ha fatto un 51% in poche settimane. Poche settimane credo una. Sì, sì, bravo. Sì, perché questo è grafico giornaliero. Però c'è da dire che non c'era nulla che l'avrebbe fermato fino a 360. Quindi ci sta tecnicamente e l'abbiamo anche detto. Sì, l'abbiamo anche detto e tecnicamente ci sta tutto. Quindi, ridiciamo. Se sfonda questo 360, arrivare a 500 ci mette davvero un attimo. Se non lo sfonda, che è fisiologico e naturale, faccia un range di oscillazione da 290 a 360 dove Ethereum ci può stare tranquillamente qua dentro per un po' di tempo. Bene, teniamoci a mente questo. Previsioni Bitcoin 288.000. Andiamo a vedere il grafico per comparare il prezzo di Ethereum al prezzo del Bitcoin. Ah, ok, ok. Ce l'avevo già aperto. Eccolo qua. Ethereum in Bitcoin. E da qua, togliamo un po' una cosa molto bella. Come ciclicamente si comportano gli asset uno con l'altro. Questo tra l'altro è su Bitstamp. Sarebbe meglio vederlo, però non lo faccio adesso per non dilungarmi. Andare su Bitrex perché c'è uno storico un po' più alto. Storico più lungo, sì. Comunque, per dirla, da dicembre 2017 dove qui ci portiamo in alto. 0,026, 0,027. Questo è un livello molto importante, infatti l'avevo tracciato. 0,027 Bitcoin il valore di un Ethereum. 0,027. Ethereum era andato sotto, poi come vedi ha ricamato qua, ha toccato questa, è stato prima supporto, poi è diventato resistenza, ha rotto questa resistenza intorno al 20, 22 di luglio. Questa è una cosa super bullish anche di Ethereum nei confronti del Bitcoin e la tendenza è, perché il comportamento di un asset come quello di Ethereum è più da oscillatore che non degeneratore. Quindi la tendenza possibile e questo ci credo fortemente nel momento in cui questo test di Ethereum 2.0 vada a buon fine, ci credo profondamente che Ethereum possa arrivare verso, non dico superarlo, ma verso l'alt time high, quindi il massimo storico nei confronti di Bitcoin e andiamo e andiamo a vedere quanto è stato 0,12 cioè il primo febbraio del 2018 che Ethereum ha continuato la sua bull run anche dopo Bitcoin, quando Bitcoin ha iniziato a stornare, Bitcoin ha raggiunto il massimo a metà dicembre 2017 e a gennaio stava già stornando, Ethereum ha continuato a salire, quindi è arrivato a un 0,12 per comprare un Ethereum c'era un 0,12 Bitcoin, cosa vuol dire? Se ritorna questo all time high vuol dire che un Ethereum magari tra un anno, un anno e mezzo, due anni varrà 0,12 Bitcoin quindi matematicamente se un Bitcoin vale 288.000 e un Ethereum è 0,12 fai tu il tuo calcolo in dollari quanto vale un Ethereum? facciamo subito lo lasciamo lo facciamo proprio calcolatrice lo facciamo perché sta cosa mi gasa da matti allora 288.000 per 0,12 34.000 Ethereum cioè sarebbe 100 volte quello che è adesso? 1000 volte quello che è adesso? sarebbe e allora adesso l'Ethereum quant'abbiamo detto che è? 360 torniamo sul grafico 10 volte 3.600 100 volte 100 volte allora è sicuro cioè ci crediamo che in questo bull run ci saranno monete che faranno un per cento forse alcune anche un per mille ci saranno molto probabile dire che lo possa fare Ethereum sembra difficile perché ovviamente dovrà arrivare una capitalizzazione di mercato spaventosa gigantesca ma ripeto il test 2.0 va a buon fine su Ethereum si sta costruendo il DeFi la finanza decentralizzata ha lì i soldi per portare una capitalizzazione di mercato ci sono davvero un valore di 34.000 dollari ci sono quindi questo è un possibile scenario che mi farebbe molto piacere che accadesse accadrà non lo possiamo sapere ci andrà vicino non lo possiamo sapere io adesso sto facendo un po' di calcoli pensando andando indietro anche il BTC quando era a 359 poi da 359 nella fase di accumulo è arrivato a 1000 e poi il per 20 da 1000 a 20.000 l'ha fatto negli ultimi 6 mesi quindi è partito poi da 400 l'altro Burran Bitcoin era a questo livello ed è arrivato a 20.000 quindi mi viene da sorridere mi viene da pelle d'occa però immaginarmi Ethereum a 20.000 30.000 wow sarebbe interessante quindi mettiamo da parte anche qualche Ethereum e ti dico non avevo mai sentito nessuno parlare di Ethereum a questi livelli qua fino ad ora ho sentito qualcuno parlare di Ethereum a 16.000 dollari questo sì ma cosa abbiamo detto 34.000 dollari siamo forse i primi che ne parlano ripeto andremo a vedere tra due anni un anno e mezzo cosa sarà accaduto ci ricorderemo di questo video non vedo l'ora andiamo avanti nel tempo e poi torniamo indietro e direi con questo chiudiamo e salutiamo tutti quanti per questa puntata di Parliamo di Bitcoin con questo Ethereum a 34.000 dollari è iniziato a mese è iniziato benissimo questa è la l'ultima analisi del del week 31 tantissime cose sono successe in queste ultime settimane lasciaci dei like commenta se hai delle domande falle pure sottoscriviti al canale e suggerisci il canale eventualmente a persone che tu ritieni vogliano essere informate e rimanere al tanto in questo in questo nuovo Burran Alberto ti auguro un buon weekend grazie mille dell'analisi un abbraccio grazie a te che ci hai seguito grazie a te a casa buon fine settimana e ci vediamo martedì sottoscrivi il nostro canale ciao